E' bello, ragazzi, sono Step Up Student e oggi siamo tornati su Minecraft, insomma già bene. Scusate, inizio l'altro episodio, ho fatto un audio di al cavolo, perché mi ha registrato l'audio della webcam. Mannaggia la webcam. Fate finta che la webcam era lo scheletro. Ok. L'ultima volta ci eravamo persi nel... Forse ci conviene uccidere Step Up Student per prendere un po' di lana. Ultima volta, anzi, c'è una cosa, quindi posso fare così. E me ne droppa tipo il doppio, un botto in più. Oh, via, questi, erano due coglioni. La notte su Minecraft è veramente molto brutta. Non voglio morire, non voglio morire. Ragazzi, sono veramente molto concentrato. Questo faccio così, così. Ma ho pure abitivo. Va in culo, scheletro. Ok, ok. Perfetto. Ciao, stupita pegora. Grazie per avermi salutato il culo e proprio il fratelletto. Ok, l'ultima volta ci avevamo visti che... Avevamo fatto... Una roba di mangrove, ci avevamo persi dalla casa. L'obiettivo di oggi sarà... Trovare la casa. Cioè, la... Casa, tra molte virgolette. Cosa è quello? Tra molte virgolette. Oppure fare un qualcosa di nuovo. Trovare un... Un... Qualcosa che mi piace di più della casa di prima, ma... Sicuramente... Ci sarà qualcosa. Ok. Ragazzi, noi esplodiamo, ci vediamo dopo. Va bene, a dopo. Ragazzi. Questo è l'inizio del viaggio. L'ultima città torcia così non ci veniva qualcosa. Dai, una nuova. Universo di Minecraft. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Uh, ragazzi. Ho trovato una roba molto succolenta. Quel portale del nether mezzo fatto che mi servono loro per andare nelle cose. C'erano già 42 dello scorso video. Ragazzi, vi consiglio di... Attivare la campanella per altri contenuti assurdi. Così siete più vantaggiati, no? Capito? Ragazzi. Un creeper! No, ragazzi. Ah, noi ne sono tornati in casa. Porca vacca, ragazzi. Non ci credo, ragazzi. Inizia già male l'episodio. Inizia già male. Morite tutti, creeper. Ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi. Tutte le sfiga a me. Il deserto del cavolo. Pure queste. È ancora vivo lui. È ancora vivo. Morite tutti. Pilla di giorni. Non andranno, ragazzi. Di mare e mammaia. Poi, c'è pure la lava. Quindi non so quanto siamo rimasti vivi. Tutte noie, ragazzi, oggi. Mannaggia. Ragazzi, però in compenso non ci è andato un villaggio, dai. Meglio di nulla. Ma che cosa meglio di nulla? Mondo crudele. Loot che ci potrà dare migliori, eh. Mannaggia. Però il letto lime che mi piace è il mio colore preferito. Che ci potrebbe stare. Adesso dobbiamo un botto di grano, un po'. Non è tanto grano, eh. Dobbiamo tutto. Che non fa male. Fa male. Ho paura di questo villaggio sia stato attaccato da i pillaroni, quelli dei bastani. Che è vicinissimo, ovviamente. Però noi non glielo togliamo tutto perché noi siamo delle brave persone. Cioè, nel nostro piccolo siamo delle brave persone. Campana. Non c'abbiamo nulla. Ha detto l'aria. Scusa, gole. Sto solo rubando. Ciao, bello. Poi ci vuole un colpo e ci ammazza. Ehi, cosa stai facendo, eh. Nasi lunghe. Furbacchioni. Una cassa non c'è? Non c'è la dare una cassetta? Mannaggia. Guarda il gattino, il gattino. Piediamo il gattino. Madre, guarda, ragazzi. Solo in questa vanilla possono succedere queste cose. Solo in questa. Oh, c'ho parole. Regà, una traccia. Siamo vicini, eh. Siamo vicini, eh. Possiamo vedere ora cosa succede al nostro loot. E ritrovarlo. Ci abbiamo fortuna, ma quello che non c'ho mai io. Quindi, ci vediamo. Chi dice, la mandi buona la seconda volta. Ok? Oh, mio Dio, la... Oh, oh. Ok. L'armatura. L'armatura. L'arm... L'armor. Non voglio... Morire. Aiutatemi, ragazzi. L'oro. Oh, manna... Ok, non voglio buttare sto 42 di oro. Ma sai che faccio? Visto che tanto muoio una seconda volta. Impostiamo il letto qui. Ci mettiamo il caschetto. Eh, si è tolto... Il coso qui. Ah, non ce l'abbiamo lì. Questo qua non ci serve. Aspettiamo. Questo qua non ci serve. Non ci serve di altro. Adesso, ce l'abbiamo questo. Questo non ci serve. Questo neanche. Ok. Ok, ragazzi. Ci potete andare peggio, eh? Ci potete andare molto peggio. Finito. Giochi. Ok, voglio aprire pure questo. Ok. Perfetto, ragazzi. Piego per quello. E ci siamo, no? Ragazzi, ho dieci minuti... Sei minuti che registro. Sette minuti. Però poi saranno sei, sette. E... Non ho trovato nulla. Sono solo morto. Sono solo morto. Bello Minecraft. Oee! Montagna del giovellotto. Che è? Maron. Ragazzi, io farò un super mega taglio. Dove... Dopo vi mostrerò... Un... Credo di trovare un... Ehm... No, no, un seed. Un luogo dove mi piace veramente così tanto. Da far la casa e tutto. Oh, guarda lì. Ah, raga. Faremo un mega taglio. Va bene. A dopo. Ragazzi, ci siamo appena comprati in un villaggio, eh? Sì, dico solo questo. L'ennesimo villaggio! Mi sto impazzendo, raga. Raga, ho addirittura... Sto prendendo pure il mio animale preferito di Minecraft! Bellissimi su tutti i commenti a me. Bellissimi, bellissimi. Tu sei uno stronzo, non mangi? Stai stai minghi. Non l'ho mangiata tanto. Tanto, ragazzi. Stanno farmando. Raga, non ho trovato un altro. Volete questo? Ce lo faccio più. Raga, tocco di veluto pure. Raga, mi sono pure accorto ora che non mi stanno più seguendo i miei papagalli. E ora sono veramente da solo. Raga, ci manca... Ci mancava solo la barca. Raga, forse vedo luce. Dì. Forse vedo luce. Una cosa di buona in questo episodio. Unboxing, ragazzi. L'impatto 2. Oh, una sella molto, molto buona. La cosa vornace. La respirazione. Dai, dai. Ci potrebbe andare meglio. Ci potrebbe andare molto meglio. Queste patatine. Perforazione. Ci potrebbe andare ancora meglio. L'ultima. Giustamente, facciamo il cavallo. Non ce l'abbiamo cosa. Io direi prima di buttare questo. Ok. Risaliamo. E ritorniamo all'esplorazione. E dopo, ragazzi. Raga. Io direi, con quest'ultima targhetta. E da bislazzoli e torce. Direi. Che ci vediamo. Il prossimo episodio che è da tre ore e mezza. Sto registrando per trovare qualcosa di buono. Io direi che ci accampiamo qui. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace che questo video lo vediamo tutto. Tagliezza tutto. Una roba assurda. E, ragazzi. Iscrivetevi al canale e commentate. E da sempre. Ciao. Ciao. Ciao.